buongiorno buongiorno dal dottor claude saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi ragazzi rispondono signore di tunisi che mi chiede per email perché a me più congeniale l'email perché non sono tanto esperto di social aggiungo mi chiede dottore mi spiega la differenza tra lo yoga e l'ipnosi in generale e io gli ho spiegato che l'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola agisce per obiettivi e non genericamente come farlo yoga come esempio voglio smettere di fumare voglio smettere di bere voglio smettere di essere impotente ed educa il tuo subcosciente anche contro la tua e il tuo permesso mentre l'ipnosi dcs vera e professionale questi ipnosi dcs unica al mondo che proviene direttamente los angeles beverly hills non richiede la tua volontà e risolve sempre in maniera specifica rispetto allo yoga i problemi che ti assillano oppure i desideri che vuoi raggiungere e aggiungo rispetto all'ipnosi conformista e commerciale altre forme di ipnosi che vedi in giro l'ipnosi dcs vera e professionale di los angeles beverly hills serve e funziona anche se tu non partecipi se tu non scendi i montagni non sali ruscelli se tu non metti auricolari cuffie se tu non dai non dedichi il tuo tempo se non metti la famosa tuta per andare in palestra per le tre ore del tuo prezioso tempo fra oggi e tutto funziona anche per bambini adulti anziani che non vogliono che non possono essere aiutati né online dal vivo da nessuno in tutto il mondo per cui è un metodo dicesse unico al mondo e non devi credere alle mie parole basta scaricarti un audio mp3 dicesse che fa per te o per il tuo caro seguire alla lettera le istruzioni molto facile alla prova di un non alla prova di un piccolo la prova di un idiota e meravigliarti meravigliarti ricordati che il sottoscritto diffidente scettico e addirittura impaurito tanti e tanti anni fa quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca a modera adesso dal 2008 ho cambiato marcia mi iprodizzo h24 da più di 12 anni anche in questo momento sono iprodizzato anche se non sembra perché mi sento bene potrei anche non iprodizzarmi perché non devi iprodizzarti sempre però siccome non perdo tempo il mio metodo è testato da più di 12 anni possiamo dire che è un secolo come suggestioni dicesse uniche al mondo di un antico sapere trasparenti pulite naturali senza nessun effetto collaterale pulite per cui hai soltanto da provare e meravigliarti non hai come le testimonianze che vedi sul sito internet eccetera eccetera anche nel mio libro che trovi su amazon cambia la vita che puoi trovare come i pronti dicesse su amazon bene noterai tante cose e ti meraviglierai anche se sei un esperto di ipnosi questo metodo e le suggestioni dicesse sono veramente uniche al mondo provengono da due grandi artiste l'ipnosi vera professionale dove io ho fondato il mio metodo dicesse la dottoressa lina brunini il professor dottor michael anghel garai miei amici miei mentori i miei maestri miei amici per l'eternità fammi tutte le domande del caso risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dicesse il dottor claudio saracino e fascia e condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla come la definisco io per cambiarti la vita come è successo a me nel 2008 centinaia e centinaia di persone che ho aiutato online in tutto il mondo con l'ipnosi dicesse vera professionale unica al mondo e seguimi per favore anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dicesse dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico mio amica mia alla prossima